L'anno scorso ho dichiarato il lago di Bracciano e ci rimango sul lago di Bracciano, perché il nostro mestiere è quello di fare trucchi. Il lago può essere tante cose diverse, può essere il mare, può essere un prato di notte, può diventare mille cose diverse e quindi stimola molto la fantasia.